Amici sportivi, buon venerdì, bentornati all'Acisport, lo sport con la C maiuscola, tante le cose da raccontarvi anche oggi, partendo da quello che vivremo nel weekend, calcisticamente parlando, terza serie, Lega Pro, sedicesima giornata, questo il programma completo con l'aiuto della grafica, andiamo a vedere perché si parte già stasera alle 20.45 con Foggia-Lecce, poi le partite che ci riguardano più da vicino, quindi le Calabresi, Savoia-Reggina alle 15, Martina Franca-Cosenza alle 16, Melfi-Lupa-Roma alle 17, alle 19.30, Benevento-Matera, domenica Ischia-Messina alle 11, Salernitana-Juve-Stabbia anche alle 11, Aversa-Normanna-Faganese alle 14.30 e dopo eccole qui le Calabresi, Catanzaro-Casertana alle 16, Vigor-Lamezzi a Barletta alle ore 18.00, Regina quindi che aprirà il sabato di terza serie, Amaranto già in tutto, come abbiamo visto, domani affronteranno il Savoia, ci saranno tutti i titolari per il duo Tortelli-Padovano, ma insomma la domanda sorge spontanea, basteranno per cambiare marcia? Sullo sfondo una trattativa di cessione avviata e confermata, dietro l'angolo una partita, quella con il Savoia, crocevia di una stagione, poco cambierà in termini di punti, in classifica un successo a torre annunziata, molto potrebbe cambiare nelle teste dei giocatori reduci da un mese nero, fatto di stravolgimenti tecnici, tattici e soprattutto tanto tanto nervosismo, nervi tesi che hanno fatto perdere la testa a Rizzo prima e dall'Oglio dopo, entrambi però hanno scontato i loro turni di squalifica e contro il Savoia ritorneranno a disposizione del duo Tortelli-Padovano, già i due tecnici chiamati a sostituire Ciccio Cozza non sono riusciti a dare una sterzata al campionato Amaranto, per loro potrebbe essere l'ultima chance. Difficile capire dal ritiro blindato in Campania dove la squadra si trova già da ieri, se i due allenatori puntino a giocarsi tutto per tutto, schienando una formazione super offensiva o si limitino a non prenderne e portare a casa un punticino, il primo della loro gestione. Di sicuro c'è che avranno praticamente la squadra titolare a loro disposizione. Al contrario del Savoia che dovrà rinunciare a tutta la difesa di ruolo, oltre ai rientranti Rizzo e dall'Oglio, in difesa tornerà anche Di Lorenzo. Con il Savoia è scontro diretto, i punti sul piatto potrebbero valere doppio, più in là. Fischio d'inizio domani alle 15 arbitrerà il signor Lanza della sezione di Nichelino. Baccaccia del sesto risultato utile di fila, invece il Cosenza di Giorgio Rosselli si l'hanno impegnati sempre domani, ma alle 16 contro il Martina Franca non ci sarà Alessandro che ha rescisso, resta invece in maglia rosso-blu capitana Manolo Mosciaro. Maroselli tornerà a puntare sugli uomini che hanno fatto bene, benissimo, fino ad ora. Uno va, l'altro resta. Jonathan Alessandro dice addio al Cosenza, Manolo Mosciaro sottolinea il suo amore per la società silana, per i tifosi cosentini e scaccia via per il momento ogni possibile voce di mercato che lo dava in partenza. Resterà al fianco dei suoi compagni e di Giorgio Rosselli, tecnico che al pari di Cappellacci sta usando con il contagocce il capitano rosso-blu. Difficile dare torto all'ex trainer del Pavia, capace di trovare il giusto equilibrio in campo, anche senza Mosciaro. Giocatore che rispetta e sul quale fa affidamento a partita in corso, qualora ce ne fosse bisogno. L'allenatore rosso-blu non cambierà praticamente nulla neppure contro il Martina Franca, avversario di turno. E la terza trasferta della gestione Rosselli, ancora a caccia del primo successo, fuori di casa. Un piccolo dettaglio in un mosaico che ha incastonato cinque risultati utili di fila tra campionato e Coppa. In terra pugliese i silani puntano quindi alla sestina magica. Unico dubbio del trainer è legato all'out sinistro di centrocampo e ballottaggio tra Zanini e Tortolano con il secondo favorito. Per il resto tutto invariato, fuori Tomi, dentro Derisio tra i pugliesi. Fischio d'inizio domani alle 16, arbitrerà il signor Cifelli di Campobasso. E quindi Cosenza Regina in campo sabato, il Catanzaro come la Vigor invece domenica. Ai nostri microfoni abbiamo sentito il centrocampista giallorosso Carlo Ilari. Ci ha parlato del suo vecchio, ma nuovo ruolo, ma anche della squadra in generale. Sentite. È un ruolo che ho già ricoperto in passato e quindi mi sto riadattando perché ho iniziato come ben detto da trequartista, quasi seconda punta e invece adesso sono tornato un po' più indietro con un ruolo di mezzala. Mi sto riadattando perché chiaramente ci sono diverse differenze e quindi ci sto lavorando e mi sto riadattando a questo ruolo. Sicuramente c'è stato un momento di difficoltà, questo è innegabile. Abbiamo avuto un momento di difficoltà, un momento in cui i risultati erano altalenanti, un po' troppo. Io credo che sia solo questo periodo e come può capitare a tutte le squadre nell'arco di un campionato. Magari a noi è stato nel periodo iniziale e ad altri arriverà nel periodo finale. L'importante è rimetterci sulla giusta strada e iniziare a vincere sin dalla prossima partita. Stiamo lavorando per raggiungere le prime. Chiaro che non dobbiamo perdere altri punti, dobbiamo rimanere attaccati e dobbiamo farlo sin dalla prossima partita, magari guadagnando qualche punticino dalle prime. Chiudiamo con il basket. La Viola Reggio è attesa da due turni casalinghe. Stiamo parlando ovviamente di Serie A2 Silver maschile. La prima avversaria al Palacalafiore domenica alle 18 sarà in Latina. Domenica la Viola affronterà la prima delle due gare casalinghe consecutive con la speranza che il Palacalafiore sia la chiave magica per incassare il bottino pieno. La prima avversaria dei regini sarà Latina che scende riva allo stretto con solo 6 punti in classifica e dopo una sconfitta interna che ancora brucia. I risultati in questo momento per la compagine romana sono stati al di sotto delle aspettative. Proprio per questo forse si è voluto irrobustire il roster con l'arrivo di Drake Reed. Ancora da verificare il suo utilizzo nel match contro il nero arancio. Questi ultimi dovranno fare a meno del forte dell'Oac che deve scontare un turno di squalifica ma coach Benedetto sembra moderatamente ottimista. Noi ha dichiarato in questo momento ci stiamo esprimendo decisamente meglio come collettivo ma sarà comunque una partita in cui dovremo tirare fuori tutte le nostre qualità. Latina evidenzia Benedetto aprirà un doppio turno casalingo che dovremo essere bravi a sfruttare. Inoltre continua il nostro progetto teso alla valorizzazione dei nostri giovani talenti. E' proprio in quest'ottica che si inserisce il prestito di spera all'Empoli Basket. In questa compagine conclude il coach avrà modo di trovare più spazio e di far emergere a pieno tutte le sue potenzialità. Bene così con questo è tutto per il momento se volete tra meno di un'ora saremo sempre qui a raccontarvi nuove notizie e nuovi approfondimenti sullo sport firmato la C. Grazie.